Il San Nicolò è ufficialmente salvo. La vittoria contro una Folgore Veregra in clamorosa difficoltà certifica che anche l'anno prossimo i Biancazzurri saranno ai nastri di partenza della Serie D. Ora però, per la squadra di Epifani ci sono altre sei gare per provare a replicare quel percorso sorprendente fatto l'anno scorso. Terremoto alla vigilia della gara invece in casa Folgore, via l'allenatore Zaini che paga un genone di ritorno in cui ha raccolto la misera di 4 punti in 10 gare. Al suo posto, almeno per la gara del Bonolis, c'è Fabio Fuschi che gioca al centro della difesa e dirige la squadra. Soluzione interna dunque, aspettando il nuovo tecnico che sarà Fabrizio Grilli. Epifani deve rinunciare a pretare Morelli, ma dopo il piattone di De Giglio fuori sul servizio di Merlonghi mette la strada in discesa all'ottavo. Galoppata sulla sinistra proprio di De Giglio, il servizio è troppo ghiotto per Andrea Bucchi che scarica alle spalle di Marani il pallone del vantaggio Biancazzurri. La Folgore, passato lo shock dell'1-0, prova ad affacciarsi dalle parti di calore costretto alla respinta dal diagonale venenoso di Gentile. Belenoso almeno quanto quello, 60 secondi più tardi che prova Petronio dalla distanza. Il destro liftato trova il guanto di Marani a deviare il pallone in calcio d'angolo. Sempre San Nicolò a ridosso della mezz'ora, col traversone da sinistra di Merlonghi che trova sul lato opposto il destro di Chiacchiarelli che schiaccia troppo e manda sopra la traversa marchigiana. Sempre il numero 7 a farsi vedere col diagonale Mancino al 28esimo bloccato da Marani sul pallone di competenza. Le occasioni per la squadra di casa fioccano. De Giglio al 36esimo fa tutto da solo ma spara alto di sinistro da buona posizione centrale invece la conclusione di Merlonghi in aria dopo uno scambio proprio col numero 9. Molto più pericolosa, e la distanza invece suggerirebbe di no, la sventola di Merlonghi su cui Marani deve allungarsi per disinnescare un gol che sarebbe stato da Cineteca. Il cliché sembra non cambiare neppure nella ripresa. 52 secondi e la testa di Bucchi da buona posizione centrale ben bloccata da Marani. Ma la doccia gelata è dietro l'angolo perché un corner di Chiacchiarelli si trasforma in una ripartenza di Sbarbati che arma il diagonale destro di Padovani, pallone in fondo al sacco e pareggio per la Folgore Veregra. Il Zannicolò però ha il merito di scacciare subito i fantasmi di un'altra beffa dopo nemmeno un minuto. Chiacchiarelli batte velocemente una punizione con un lob che trova la volée di Merlonghi che bacia la parte interna del palo e riporta in vantaggio il pallone di casa. La strada a questo punto per il Zannicolò si fa ancora più in discesa soprattutto perché al 65esimo De Gideos scappa sulla sinistra a Mandorlini e serve la più facile delle conclusioni ancora a Merlonghi. Doppietta per il numero 11 di casa, partita virtualmente chiusa. Tutto questo nonostante Sbarbati al 76esimo provi di testa a riaprire la partita ma Calore non tenete lo stesso avviso. A questo punto Epifani toglie Chiacchiarelli e Bucchi per De Santis e Moretti ma è proprio Sbarbati che dà l'ennesimo sussulto del pomeriggio incornando un traversone da destra e battendo stavolta l'estremo difensore sannicolese. La gestione non è una dote preponderante della formazione di Epifani e lo si capisce quando stringe i denti per non subire un 3-3 che saprebbe di vera e propria beffa e nel contempo getta le basi al 94esimo per il poker con Parker che serve in campo aperto Merlonghi che dribbla Marani e deposita in rete il pallone del 4-2 tripletta personale per il numero 11 e l'ennesima vittoria di un campionato che assomiglia molto a quello che l'anno scorso portò i Biancazzurri alla finale playoff. Massimo Epifani, adesso però possiamo dirlo di salvezza non si parla più perché i 42 punti sono stati raggiunti. Sì, credo da oggi non parliamo più di salvezza è stata dura arrivarci perché sembrava facile ma non era così perché il campionato è terribile e oggi abbiamo fatto una grande partita, una grande vittoria anche se a un certo punto ce la siamo ricomplicati da soli però poi la squadra ha ripreso a giocare, ha fatto il quarto gol e siamo stati bravi anche a cambiare modulo durante la partita perché loro al secondo tempo sono rientrati in maniera diversa e siamo stati bravi anche a cambiare modulo. Ecco, questa squadra se abbiamo imparato qualcosa in questi anni è che probabilmente la gestione del risultato non è il suo forte? La squadra che gioca sempre rischia sempre qualcosa perché quando una squadra gioca sempre palla a terra rischi sempre qualcosa il mio credo è quello di andare sempre in avanti e cercare di fare gol anche se ci siamo modificati un po' perché la fase difensiva la facevamo molto molto meglio dell'anno scorso e quindi credo che oggi è venuta fuori un po' tutta la voglia di vincere perché oggi volevamo vincere, venivamo da un risultato negativo dove a Fano praticamente non eravamo nemmeno scesi in campo abbiamo fatto la più brutta partita del campionato e oggi i ragazzi hanno fatto una grande vittoria che ci permette in queste ultime sei partite di risognare di nuovo di fare i play-off perché sarebbe un traguardo veramente bellissimo. Hai appena sentito Fabrizio Grilli diventa di fatto allenatore della Folgo Revere che vuole fare un in bocca al lupo? A Fabrizio abbiamo giocato insieme è un ragazzo bravissimo e gli auguro le migliori fortune in queste ultime sei partite perché c'è ancora tempo e modo per tirarsi fuori. Claudio Cicchi, una sconfitta qui a Teramo che viene dopo un esonero praticamente alla vigilia del tecnico Zaini è terzo ultimo posto ecco, come si esce da questa situazione? Beh, speriamo con il lavoro io penso che con il lavoro alla fine si riescono ad ottenere i risultati oggi era una partita indubbiamente difficile però, diciamo, pur mancando delle pedine importanti e il novantesimo avevamo magari raggiunto il pareggio e probabilmente il Zaini ha visto un fuori gioco che a noi non è apparsa però giocavamo contro una grande squadra e purtroppo una sconfitta ci può anche stare. Banchina adesso stiamo valutando è stato comunque scelto una selezione interna sarà probabilmente Fabrizio Grilli uno che ha fatto il portiere anche qui nel Terramano tanti anni fa un ragazzo per bene e sono convinto che con lui riusciamo a ritrovare, ripeto quella serenità che occorre per raggiungere a questo punto l'obiettivo della salvezza che non sarà facile.